Che il ragazzo le qualità le abbia, lo dimostra, deve avere pazienza lui, deve saper gestire i momenti, saper aspettare nei momenti in cui qualcuno va meglio di lui e sicuramente farà delle grandissime cose perché è un ragazzo che ha tantissima qualità fisica, ha tantissima volontà, ha buona qualità tecnica quindi credo che non gli manchi nulla. Possiamo dire che dopo questa prima partita il confronto è stato costruttivo? Beh assolutamente sì, ma questo è sempre, io credo che la squadra, abbiamo parlato non a lungo perché a me non piace parlare molto, io credo che la maniera migliore di recuperare terreno quando qualcosa non funziona è lavorare, sembra una frase fatta ma in realtà è la verità, però bisogna puntualizzare alcune cose, chiarirle bene, darsi delle priorità, lo abbiamo fatto, stiamo cercando di migliorare in questo e credo che la squadra la risposta l'abbia data sul campo che è sempre la cosa più importante, non solo per l'allenatore ma in generale.